Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ormai l'autunno è una realtà sui nostri territori, infatti affluisce aria decisamente fresca dai quadranti orientali che porta nubi alternati a schiarite con un clima decisamente autunnale. Come vedete dalla grafica anche nella giornata di domenica? Aria fresca, proprio pilotata da questa circolazione depressionaria sui Balcani, continuerà a raggiungere il nostro territorio portando degli annuvolamenti più consistenti al primo mattino e durante le ore serali, mentre qualche fugace schiarita sarà possibile nelle ore centrali della giornata. Clima decisamente fresco per il periodo. Come andrà invece la settimana prossima sul nostro territorio? Ho indicato un clima molto molto fresco in generale sull'Italia, così come sul nostro territorio orobico, con arrivo di un nuovo impulso di aria abbastanza fredda, proprio a partire dalla giornata di martedì, che porterà anche qualche locale acquazione e di nuovo un calo deciso delle temperature, tanto che nella giornata di mercoledì e giovedì sull'altopiano di Clusone si potranno raggiungere valori minimi anche appena al di sopra degli zero gradi. Quindi vedete come il freddo sarà padrone del nostro territorio. Le precipitazioni, le piogge invece saranno molto lontane perché questi venti saranno molto molto secchi. Andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica, che vede nubi in prevalenza sul nostro territorio, con qualche apertura e qualche fugace occhiata di sole nelle ore centrali della giornata. Uno zero termico intorno ai 2500 metri di altitudine e vedete che anche nella zona della medio-bassa Valle Seriana e Lago di Iseo avremo un po' questo sole che giocherà a fare il nascondino con le nuvole. Ecco, ripeto, nelle ore centrali a giornata il tempo sarà decisamente migliore. Non sono previste piogge per la giornata di domenica. Andiamo ora all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana, che vede una giornata di lunedì con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, quindi una giornata direi buona, con temperature fresche al primo mattino, 4-5 gradi nei valori di minima sull'alto piano di Clusone, massime che grazie anche a qualche raggio di sole in più si porteranno intorno ai 18-19 gradi, zero termico a 2900 metri di altitudine. Martedì, martedì sarà una giornata che inizierà bene con cielo poco parzialmente nuvoloso, ma nel corso del tardo pomeriggio serata arriva un nuovo impulso di aria fresca da est che porta locali piovaschi sul nostro territorio, specie in prossimità dei rilievi e un calo generalizzato delle temperature. In serata nottata non escludo qualche fiocco di neve che potrebbe raggiungere anche la quota di 1500-1800 metri di altitudine, vedete come lo zero termico si abbasserà nel corso della giornata intorno ai 2500 metri di altitudine. Ecco che mercoledì e giovedì avremo questa alternanza di nubie schiarite, ma senza piogge, senza precipitazioni, ma molto molto fresco, zero termico a 1900 metri di altitudine, cosa significa che avremo zero gradi a circa 2000 metri nelle ore centrale a giornata, quindi pensate a quanto farà freddo, minime intorno ai 4-5 gradi al primo mattino, ma localmente anche più basse, anche vicino agli zero gradi nelle zone più protette e più fredde del nostro territorio, quindi possibili anche prime brinate fra mercoledì e soprattutto nella giornata di giovedì, massime non superiori ai 17-18 gradi in un contesto decisamente di freddo, di stampo autunnale. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.